buongiorno fiorellini e fiorelline oggi sto facendo quella fotocamera sempre un cavalletto dietro per mordinerò su amazon il fanalino per metterlo sulla fotocamera oggi è un video spesa prima ho fatto spesa io e poi ragheri adesso vi faccio vedere prima la nostra spesa e poi quella di ragheri un altro video ok da buona sigla iniziamo a farvi vedere la mia spesa ecco fiorellini e fiorelline sono ritornata iniziamo con la spesa allora siccome ho preso la fotocamera e vedrete a dritto ragheri di saluto nicolo vi saluta per farvi vedere scritte a dritto pomodoro poi uno un pacco di biscotti un altro due pacchi di biscotti poi mi sono comprata questo qua tantissimo tempo che non mangio più e c'ha 83 calorie per fare la merenda o per fare tre scontini tutte queste cose qua poi il condoletto di pollo 3 euro e 99 oggi sta dritto poi ho preso il il pane sciapo che mangio io poi le salcicce e comprato 10 euro 85 le sottocosce di pollo poi questo era tanto tempo che mandavano mamma mia tanto tempo le cosce blocco un attimo e ritornerò ecco sono ritornata è ritornata la mia racchiale che mi aiuta a fare pure i video come sposta aspetta mi sposta roba me la rimette perfetta ragheri che si riporta allora tu manca sotto il rio mare questa si strilla ho comprato minestrone perché d'inverno quanto se sta bene a mangiare minestrone fa più buono minestrone poi la pancetta una venito per rubare la baracchiera due poi la mozzarella ha letto il bollo poi lo zucchero poi ho preso una la che è nico due mi sta fanno male tre mi sta spostando dietro quattro e cinque non vuoi spostare il cavalletto nicola mi hai buttito tutto poi un altro zucchero questo è il banco della cosa ho preso i tre di salame spagnolo tre di mortadella e tre di prosciutto dolce quello che mangio io poi questa qui vede la mia mozzarella mamma mia senza aiuto i ragheri e il macello ho comprato un po' di verdura nel video congelatore queste questa 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 e questa poi che stanno le nostre si vedete corri mettete i soldi quello l'ho fatto ragazzi aspettate il blocco che voi non vedete ma c'è una grande confusione di spesa qua oggi poi ho comprato oro che è più buono che con gli altri biscotti questo è più buono quelli tè oro vedi prese sono buoni poi ho preso le merendine queste sono per me queste poi eh zucchero pomodoro uno due tre gazzosa zero metti là mamma mamma e due poi abbiamo un'altra busta mi sa l'ultima busta per le rosette che noi dividiamo metto ogni rosetta una bustina Poi questo, una e due, no, ah no non è l'ultima bussa, questo è il formaggio che sembra una torta, che si compra quel rino, poi il camuscio d'oro, ora che non comprava più il camuscio d'oro qua, quando c'erano un'ora piccola e qui c'è solo quello il formaggio. Poi il formaggio con i buchi, due, mamma mia quel rino, ah questa c'è questa noce, io so. Con le noci dentro, buono, questo che è? Questo con le noci, ecco le noci. Poi ho comprato le tartarughe, buone questa noce, le rubo così. E le rosette, perché a me piace un pello di tartarughe, che rosette. Poi, questo qua, questo è per me, questo è per i piccola, e qui. Poi, 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 questo si è stappato, vabbè, questo e questo si è stappato, questo è senza la cosa, lo so, vedete perché. Poi, ci stanno altri due pomodori, uno e due. Poi, poi, l'olio, 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 finito? poi c'è un'altra brutta tasca ah questo è il tè e io ci vado matta buono questo tè frutti rossi provatelo è troppo buono poi vetto chiaro perché qui non c'è i vedrini e perciò ha dei pulissimi occhiali ah c'è un altro pomodoro uno un altro e in alto ancora poi abbiamo preso l'aglio perché ha scato l'aglio boh non sa perché ha scato e chi non senza l'attocchio sempre cosa viola quando prendi quello sempre senza l'attocchio ha poi le buste per la differenziata l'umido la differenziata e poi la persi una e due e adesso vediamo quanto abbiamo speso che oggi si vede bene perché ho messo la fotocamera che mia nipote mi sa che vuole buttare giù quella di dietro prima prima abbiamo speso 222 euro e 67 se no come si vede se no come si vede abbiamo comprato questo qua che abbiamo comprato questo qua che abbiamo comprato la dieta la nostra video spesa volevo dire e abbiamo comprato questo qua adesso ciao al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.